Vi porto sulle tracce di una delle grandi civiltà del passato, il popolo della notte, vissuto a cavallo tra la scoperta del fuoco e quella del coprifuoco. Si trattava di giovani, quelli che oggi chiamiamo under 60, che celebravano bacco, tabacco e venere, con le preghiere della sera, dette vespri o movida. E questo era il loro tempio, il bar o pub. Pensate, in questi luoghi, l'alcol, invece che usarlo per sanificare le superfici, se lo vedevano. E questo altare che vedete alle mie spalle era il bancone, dove sin dalle 18 si teneva il rito dell'apericena, simile agli aperitivi su Zoom, ma con i pantaloni. E questi sono i resti di un barman, un uomo primitivo, risalente all'era glaciale, stando a quanto ghiaccio, metteva nel mojito. I clienti dei bar si sedevano su uno di questi sgabelli e ordinavano da bere. Vino, birra, rum e pera, o se dovevano guidare, soltanto pera. Con queste bottiglie, i barman preparavano delle pozioni, chiamate cocktail. Come lo spritz, simile al Pfizer, per emissione di droplet, ma meno freddo. Il vodka martini, agitato, non mescolato, proprio come un'AstraZeneca. O il whisky and soda, una specie di Johnson & Johnson, ma senza trombi, soltanto cirrosi. I clienti del bar bevevano questi drink utilizzando un utensile, chiamato cannuccia, che si infilava in bocca, proprio come un tampone, ma dopo eri positivo, soltanto all'alcol test. E qui è dove il cliente del bar, al settimo gin tonic, si inginocchiava, di fronte a questa scultura in ceramica, per un antico rito di purificazione, di solito accompagnato da un amico che gli reggeva la fronte. Durante questo rituale, il cliente del bar si rivolgeva agli dèi, con versi tribali, come affinché gli fosse risparmiato il mal di testa, il giorno dopo. Non è chiaro chi raffigurasse questa scultura. Alcuni pensano a Giove, altri all'imperatore Vespasiano, altri ancora a Ricciarginoni. A fine serata, i nottamboli si piazzavano fuori dal locale, anche fino alle tre o le quattro di notte, per un antico trattamento termale, che consisteva nel ricevere una secchiata d'acqua ghiacciata da quelli che abitavano di sopra e che volevano dormire. I bar sparirono dall'oggi al domani senza un vero perché, probabilmente inabissati dallo scioglimento dei ghiacciai nei drink, un dramma che però gli ha consegnati alla storia, come la nuova Atlantide.